Mi hanno portato il carro, mi hanno portato con la macchina qua e mi hanno detto vetti di là e fatti. Ho visto la gente che mangiava, qualcuno si è rubato i libri, l'altro che regola... Qualcuno che ha fatto i piazzi? Qualcuno che ha fatto i piazzi, cioè che ha fatto i piazzi, non che ha lavato i piazzi. Qualcuno che ha fatto la spalla. Che ha visto la roba dei piazzi, perché ha cucinato i piazzi. Però la cosa bella, sai qual è? Che vedi tutta questa cosa? Ci hanno chiuso i 5 aperti. Ah, tu! Io con la ditta invece ho recuperato qualcosa. Questo è già un fatto importante. Li investiremo nella prossima puntata. Però devo dire grazie agli amici sponsor del vino, che è un vino strepitoso. Mi ha appena regalato una bottiglia solo. Sì, infatti. Cioè voglio dire una sola. Una sola bottiglia. Poi più in là. Comunque troviamo lo sponsor passi. Se volete che diventa meraviglioso il vino. Una bottiglia diventa buono. Però uno si va nella ricina di cartù e uno diventa un vino strepitoso. È fatto apposta perché si sono messi sotto al quadro con due figure. Eh sì. Eccolo qua. Chi sono? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Però tenere una faccia gialla. Tonino e Gaetano. E' come San Gennaro. Come San Gennaro. Come San Gennaro. Come San Gennaro. Va bene. Io chiudo perché sta finendo la batteria. Grazie. È stato bellissimo. Prendimento alla prossima presentazione. Eh no. Ci vediamo alla prossima presentazione. Eh. Devo ancora chiudere perché te l'ho detto l'altro oltre. Il caffè letterario mi ha chiesti 150 euro. Il comune... Il comune di Nocera ha fatto orecchie da mercante, diciamo. Ma davvero il comune di Nocera ha fatto orecchie da mercante, diciamo. Ma davvero il comune di Nocera. Il comune di Nocera per meno di 2.000 euro non vengono mai. Perfetto. Andremo dove ci accoglieranno a braccia aperte. Come? La casina Pampiani. Come la casina Pampiani. Ringraziamo l'ingegnere Marfè. Ringraziamo l'assessorato. Non so se l'ingegnere ha preso lo spot che ci ha fatto. Come no. Perché non mi ricordava dove era. No. 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 Ma ci ha parlato di libro, parlare di tutto. Adesso dovremmo fare... La presentazione. Tu ora sei convinto. Che allora non tocca poi. E' questo ceci. Gli fanno voi da me. Ma voi da me. No vabbè. Io mi sono divertito stasera. Avevo fatto un discreto pasta e ceci. È discreto. Perché insomma poi... Nella condizione in cui stavamo. Ringraziata a Dina. E' da papadini. E' chi paga troppo. No, ma uno smettura a pretenda. ci abbiamo all'auto in testa la musica di Carriere e intorno a migliaia di persone che ancora cantano se ne guardi con gli occhi dell'amore non ci lasceremo più incarneremo il tempo ed il dolore sia l'estate che l'inverno grazie